Ciao a tutti, come eliminare le convinzioni, le credenze limitanti? In questo video voglio spiegarti come puoi eliminare le credenze limitanti. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento, abbonamenti base per dare un sostegno al canale e abbonamenti seminari online per partecipare ai miei seminari online. E adesso veniamo alle credenze limitanti, come eliminare le credenze limitanti. Allora, le credenze cosa sono? Sono un po' i comandanti del cervello, se abbiamo delle credenze limitanti, se ci sentiamo limitati, non riusciremo a raggiungere risultati importanti nella nostra vita. E' molto importante riuscire a rivoluzionare la nostra vita trasformando le nostre credenze da limitanti in credenze potenzianti, cioè in credenze che possono aiutarci a raggiungere finalmente gli obiettivi della nostra vita. Questo è molto importante, molto importante perché se riusciamo a fare questo riusciremo a ottenere dei risultati molto, 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 molto importanti. e molte volte, diciamo, molte volte le credenze nascono dal pensiero, sono i primi pensieri che generano credenze limitanti. E diciamo, eh, io sono fatto così, sono troppo vecchio, sono troppo giovane, sono troppo povero, sono sfortunato, talvolta pensiamo di essere sfortunati. Quindi, i nostri pensieri possono generare credenze limitanti. Come riconosciamo, quindi, di avere una credenza limitante? Beh, diciamo, ogni volta che noi abbiamo un pensiero che ostacola ciò che è il nostro desiderio, lì sotto c'è una credenza limitante. Quindi dobbiamo imparare a gestire, a governare i nostri pensieri. Perché? Spesso, diciamo, un pensiero negativo poi viene alimentato. Iniziamo a dire non sono capace a fare questo, diventerà poi non farò mai nulla di buono, diventerà poi sono un fallito. e soprattutto questi pensieri se vengono emessi in uno stato emotivo, significativo, tendono a diventare veramente dei pensieri forti. Se abbiamo rabbia, tristezza, frustrazione, quindi diventano dei veri e propri ostacoli, diciamo, che si manifestano al nostro interno e ci impediscono di ottenere dei risultati, ci impediscono di essere felici. Quindi per cambiare le credenze limitanti dobbiamo iniziare a cambiare i pensieri alla base. I pensieri sono veramente gli artefici della nostra vita. Se cambiamo i nostri pensieri, se cambiamo il nostro modo di pensare, ma non un pensiero, cioè ho un pensiero positivo e poi ho 500.000 pensieri negativi, non è questo. Dobbiamo proprio cambiare il nostro modo di pensare a livello generale. Dobbiamo, il primo passo è la consapevolezza, renderci conto dei pensieri, diciamo, che abbiamo sviluppato. Quindi il primo passo è riconoscere i pensieri limitanti. Prima dobbiamo riconoscere, diciamo, che esista una credenza limitante, ma basta riconoscerla, basta vedere dove non riusciamo ad avere successo, dove non riusciamo ad avere successo nella nostra vita e praticamente è certo che c'è una credenza limitante sottostante che ci impedisce di raggiungere quello che vogliamo. Quindi una volta partendo dalla credenza, analizziamo i pensieri che noi abbiamo su questa situazione, perché dobbiamo imparare a a vedere anche le sensazioni che ci generano questi pensieri. Il secondo passo, una volta che abbiamo preso consapevolezza, è di mettere l'antidoto, cioè di mettere un pensiero contrario. Una caratteristica della mente degli esseri umani è che non possono stare contemporaneamente nella nostra mente un pensiero è il suo pensiero opposto. Quindi è molto importante sviluppare nuovi sistemi di pensiero che possano efficacemente contrastare diciamo i pensieri che possono essere i pensieri opposti alla nostra mente, alla nostra vita. Questo è un qualcosa di molto importante. Se vogliamo portare a termine un obiettivo raggiungere un obiettivo dobbiamo creare delle credenze sottostanti fondamentali. Una volta che abbiamo diciamo messo l'antidoto dobbiamo iniziare ad alimentare diciamo con nuovi pensieri in nuove credenze. Quindi iniziamo a definire quindi c'è un processo di trasformazione trasformare una vecchia credenza in una nuova credenza. Una nuova credenza è sono un vincente ce la faccio io ci riesco io sono migliore ecco quindi attraverso questo processo che poi si tratta di prendere il controllo del nostro pensiero quindi questo è un qualcosa di fondamentale prendendo il controllo del nostro pensiero noi riusciamo a raggiungere veramente riusciremo veramente a raggiungere degli obiettivi molto molto importanti nella nostra vita quindi obiettivi di diversa natura obiettivi familiari lavorativi abbiamo tutte le possibilità di farlo però dobbiamo iniziare veramente a diventare padroni in casa nostra diventare padroni dei nostri pensieri bene per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like condividilo con i tuoi amici iscriviti al canale seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare abbonandoti potrai con gli abbonamenti base partecipare alle live con l'abbonamento seminario online partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente ciao a tutti